Ci voleva, ci voleva una vittoria dopo tanta sofferenza, dopo aver sofferto veramente tanto nel giro in andata. Quello che mi è piaciuto soprattutto è stata la reazione della squadra dopo il gol subito, perché è una reazione così, è veramente una reazione da grande squadra che ne abbiamo dimostrato, pareggiando nel primo tempo e portando comunque nei spogliatoi il pareggio. Poi nel secondo tempo secondo me siamo stati veramente bravi a passare in vantaggio e a non difendersi e a continuare ad attaccare, infatti è arrivato fino al 4-1. Veramente una prova di squadra su un campo brutto, però va bene così dai. Ma può essere un punto di, una scossa, un punto di ripartenza del Codugno nel ritorno questa partita? Sì, penso proprio di sì perché quello che secondo me dovevamo ritrovare era la forza del gruppo e secondo me oggi l'abbiamo dimostrato veramente ed è quello che ci porterà, dobbiamo portare avanti nelle prossime partite, è quello secondo me l'aspetto al di là della tattica, degli schemi, secondo me la prima cosa è il gruppo.